ok ci siamo adesso abbiamo tre lightning talk dunque tre talk da 30 minuti dunque Francesco hai solo 10 minuti per dire tutto allora già nell'anno 2000 Francesco aveva realizzato i suoi siti web in html e css dunque l'inizio ho provato diversi ha provato diversi cms ma ovviamente ho finito con wordpress è stato l'ennesimo di chiedere l'assistenza a wally per gli errori 500 come quasi tutti di noi docente e responsabile sistema it coorganizzatore del piacenza wordpress meetup e oggi qui per parlare 10 minuti di fumetti punk wendy e stile css francesco rigio grazie grazie allora questo prende le fila un po' da è un po' una seconda puntata di un talk che avevo già fatto a Bari nel 2019 quindi uso lo stesso personaggio un po' più veloce che affronta una fase diversa della sua vita prima era lo studio di wordpress adesso era che entrava nel mondo del lavoro quindi facciamo brevemente faccio nelle puntate precedenti visto che c'è stata una puntata precedente per chi l'ha vista nel 2019 a Bari per chi non c'era lo faccio avevo pensato a questo talk che è insegnare wordpress da zero e a wendy e i suoi amici quindi a una classe di un'accademia di web nel quale lavoro e a un worker di qualche anno fa appunto ho conosciuto wendy e una giovane studentessa di web e wordpress due anni di studi da zero quindi veniva da una scuola non tecnica non di programmazione fino a usare wordpress in maniera abbastanza avanzata e con le sue prime esperienze con Gutenberg che era già uscito diciamo quando lei ha cominciato gli studi i blocchi quindi si è subito appassionata e con un metodo di insegnamento che è stato primo il mio predecessore questo signore con la barba che è Salvatore Laisa un bravissimo sviluppatore e docente che ha portato il metodo di Gio Casabona che ha scritto un libro che era appunto da wordpress themes from scratch che parlava appunto di come costruire un tema wordpress partendo praticamente da zero dal codice PHP e noi abbiamo utilizzato utilizziamo ancora questo sistema principalmente perché permette proprio di avvenire a conoscenza noi riteniamo dell'HTML col CSS il PHP e tutte le varie cose quindi in questi due anni è arrivata fino a comprendere diciamo addirittura il functions PHP che sapete tutti che sviluppa una bruttissima bestia quindi arrivare a cominciare a mettere le mani anche nel functions PHP con i diversi linguaggi che contiene Wordpress che sono l'HTML il CSS il JavaScript e ovviamente PHP e il suo database MySQL quindi una volta finiti gli studi la seguiamo un attimo prendiamo lo spunto per iniziamo il predistato presso un'agenzia dove si trova tutto il femminile della sua città quindi è una città di provincia non siamo in una grandissima città è un'agenzia diciamo per iniziare a entrare nel mondo del lavoro e mi sono immaginato un nome ovviamente immaginale Web Angels dove le vediamo un po' in azione su cosa fare in agenzia c'è tanto da fare specialmente quando si è in una piccola agenzia dove tutti devono fare un po' tutto i siti possono essere da modificare quindi chi ha già un sito ormai moltissime aziende hanno già un sito però hanno bisogno di rinnovarlo hanno bisogno di spesso viene abbandonato un sito viene fatto una volta da uno il classico cugino con 3G e poi viene abbandonato e va rifatto o siti da adattare al responsive al social eccetera oppure siti da rifare da capo e siti da creare nuovi quindi vediamo velocemente queste tre possibilità ovviamente usando Wordpress vediamo il primo caso che è chiamato cheap but chic e bussa all'agenzia il cliente Joy ha un sito per il suo street track cioè i furgoni vendipanini si chiama Bitburgs e l'ha appena riverniciato il suo furgone d'arancione e quindi vuole modificare i colori del sito però come ci immaginiamo è un cliente con poco budget il sito di Joy è realizzato appunto con un piccolo budget è addirittura stato fatto con un tema gratuito e dato il piccolo budget che mette a disposizione ovviamente Wendy interviene con la sua agenzia soddisfando il cliente agendo su quelle cose che ha Wordpress Wordpress anche nella sua versione base poi se parliamo dell'ultima versione ancora meglio anche nella sua versione base anche nei temi gratuiti hanno comunque dei tools che permettono di realizzare quello che Joy chiede cioè cambiare i colori cambiare la palette e andare a selezionare i colori tramite strumenti di Wordpress oppure anche intervenendo addirittura sul CSS intervenendo sul codice e immettendo del CSS aggiuntivo quindi un'operazione molto veloce e col nuovo editor che da beta è diventato ormai col 6.2 è ufficiale si può cambiare l'aspetto del sito addirittura creando delle skin non so se avete visto i configurazioni nuove con il file json dove si può intervenire io ho cominciato un po' a giocarci a provarlo e lo apprezzo tantissimo ovviamente c'è magari della strada da fare è un completo sconvolgimento della struttura dei temi Wordpress quindi ci sarà un po' di strada da fare nel futuro però permette addirittura di fare delle skin e intervenire sulla palette dei colori direttamente nel tema gratuito e di default di Wordpress quindi può intervenire addirittura se fosse la nuova versione può intervenire velocemente facendo l'azione che chiede joy quindi questo è un po' il primo esempio basso budget con una bassa richiesta e una cosa veloce da fare il caso 2 saliamo un po' come budget e come richieste l'ho chiamata wannabe restyled noterete che c'è un piccolo filo conduttore musicale e abbiamo squilla il telefono Marchi il nuovo cliente vuole rinnovare a un sito di giocattoli horror Pines siti di giocattoli horror sono all'ordine del giorno sono comunissimi e a questo punto interviene la grafica delle web angels che chiameremo Shina si mette al lavoro vuole fare un po' più di cambiare un colore vuole fare un rinnovamento in questo caso avendo anche un po' più di budget si acquista un tema premium più moderno di quello che magari usava si attua quindi le idee grafiche di Shina che è la grafica dell'agenzia e qui creiamo un child team quindi permette di creando il tema child intervenire e facendo delle configurazioni delle personalizzazioni che una volta aggiornando il tema non vengono perse e quindi lavora in cascata al nostro tema e crea uno style CSS mirato e dei nuovi template per la home e un catalogo prodotti quindi permette quest'azione con il child di intervenire poi Wendy per fare una personalizzazione più avanzata rispetto al caso che avevamo visto di Joy il caso 3 don't be buried se non seppelliamolo abbiamo Johnny questo altro cliente che assomiglia sempre a qualcuno che qualcuno conoscerà dirige la Pet Asylum è una clinica per la cura di animali il suo sito è lentissimo è come se fosse posseduto da uno zombie quindi è veramente un sito che si trova lentissimo e per la sua attività è disposto anche a spendere un po' di più e quindi vengono proposti quindi propone al cliente un tema più snello usava un tema molto pesante si accorge e per esempio una delle possibili strade è partire da un tema cosiddetto starter cioè un tema ho chiamato a volte anche skeleton un tema con alcune funzioni di base molto limitate in questo caso understrap ha dentro alcune funzionalità per esempio di vstrap che è un framework css e propone anche un'altra azione non da sviluppatrice ma un'azione diciamo professionale fare un contratto di manutenzione costante questa è una delle cose che spesso il cliente non tiene in considerazione che il sito va seguito cioè va fatto un contratto in cui periodicamente anche poche ore all'anno ma o al mese se fosse però una manutenzione tecnica ed è la causa che poi molti siti a volte vengono abbandonati perché al cliente andrebbe fatto capire che un sito non si crea e basta e non si vende ma si deve portare avanti con un contratto di manutenzione costante si potrà monitorare per esempio le prestazioni del sito e vedere quali sono le cose che possono essere corrette dal punto di vista qui restiamo nell'ambito diciamo CSS temi per esempio appunto fare questo tipo di tema un po' più leggero può essere una soluzione poi altre soluzioni può essere un backup professionale un server dedicato PHP aggiornato e qui sono argomenti che possono esserci allora un'altra cosa che si può fare è con SAS possiamo trattare il CSS con SAS bootstrap è basato su SAS e possiamo per esempio ridurre di tantissimo partendo dai codici sorgenti togliendo tutte le cose che non andrà che non serviranno l'ultimo caso è abbiamo questo believing miracles entra questo principe di D che vuole un sito turistico chiamato Rockaway Beach ha un emirato ricco di spiagge petrolio e qui il budget sale vertigionalosamente creano un piano marketing tecnico soddisfa il principe di D il budget permettere di progettare un sito di Wappers di qualità i punti chiavi avendo un buon budget a disposizione è un tema custom personalizzato SAS e grid CSS e Flexbox usati con criterio GitHub con staging e display custom blocks e patterns e una progressive web app per i dispositivi mobile quindi qui stiamo sparando e suona la sveglia era solo un sogno purtroppo questo cliente non è mai entrato e niente Miro niente budget a 6-0 e concludo velocemente sappiamo che spesso dobbiamo avere a che fare con ben altri clienti cliente che vorrei un sito e-commerce come Amazon 300 euro bastano e per domani è pronto mi mettete nella home un bel tasto entra che belle ragazze mi fate lo sconto però bel sito per averlo fatto delle ragazze altre classiche frasi che possono uscire posso pagare in visibilità bellissimo le foto le faccio io con il cellulare che problema è mi raccomando Natale la neve che scende l'effetto neve sempre molto richiesto basta ho finito grazie a tutti voi e vi lascio con questo grazie Francesco grazie grazie a Wendy piccolo regalo da noi ci saluta da casa piccolo regalo da noi grazie per il tuo talk e andiamo subito avanti con il prossimo se ci sono domande Francesco è ancora qui in giro sono qui non dimenticare tu no ok grazie 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 grazie